Feliz Navidad, frontero anno e felicità 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 Sono gli auguri di un Natale di pace per tutti gli uomini e donne sulla terra dai piccoli corristi di Rosanna Guarnieri, direttrice del coro Madonna della Merceta di Ramiola in Pieve a Fornovo durante Teleton 2017, organizzato dalla Pergamena in collaborazione con Proloco e la parrocchia Santa Maria Assunta Grazie a tutti.